bene amici HDblog siamo io e Sketch ciao Sketch ciao a tutti ragazzi ciao Adamo siamo riusciti a connetterci e questo è il primo forse di una lunga serie di appuntamenti vedremo in cui giocheremo in multiplayer questa volta però facciamo squadra vero sì sì assolutamente ci facciamo questo clan di HDblog e andiamo a uccidere i nostri amici esatto clan HDblog versus il resto del mondo in differita ad Amo dicevo che mi sa che c'è qualche italiano con noi in stanza adesso eh sì quindi ci sta ascoltando ci sta ascoltando e se segue HDblog si sentirà tra qualche giorno a meno che sia nell'altra squadra e quindi ce lo siamo io ho paura di sì e quindi ce lo siamo io mi sa di sì ci siamo fatti colpire come due pippe e sono anche piuttosto piuttosto incazzato ecco mi succedassi anche attento adesso la vendetta sarà tremenda cioè no assolutamente anche perché poi tra parentesi devo riprendere mano al gioco perché sto facendo ore e ore di suor dart online e quindi non è semplice e sai che a me manda fuori eccolo lì vieni bello no è che io vado fuori di testa perché salto da battlefront a black ops puoi capire che da uno all'altro sono abbastanza diversi eh sì effettivamente siamo in un periodo un po' pieno vediamo se riesco a in seguire e ti darti una mano nel frattempo ecco ti faccio un'apristrada vediamo se no va che andiamo davanti occhio eh sì vieni bello vieni bello l'abbiamo crellato in otto e poi tu vedo che sei molto più avanti di me come livello però vabbè io lo ammetto questo qui è il mio profilo personale ho ho approfittato dei piedi doppi e c'era un po' di esperienza doppi nel fine settimana non so se ci sono ancora se no col cavolo che sbloccavo tutte le classi specialistiche ah ecco si si figurati ogni due partite tre partite saliva di un livello io mi faccio un pezzo sottacolo dovrò cercare di farmi forza in età hai cambiato giro si che non ti dico eh c'ho uno a fianco va 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 ma tu lo specialista quello hai scelto io ho quello che ha lancia fiamme aspetta come si chiama ah si Firebrick si l'ultimo quello che sblocca il livello 46 io ho ancora quello con la su muori ma l'idea devo dire la verità che il mio preferito è psicosi quello che era psicosi ah quello è veramente figo eh eh si ed è utilissimo poi se trovo gente che campi era però eh no 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 quelli li odio cioè quando ti capitano i camperoni ecco 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 vieni vieni venite ancora cerco di raggiungerti dove stai volevo saltarmi un montaggio mi sono riuscito mi hanno bloccato adesso sono riuscito a uscire ho fatto fuori il primo classifica ecco ti qua ti vedo sei muovato sì però adesso basta adesso vado di lancia fiamme appena mi trovo nell'occasione giusta voglio proprio vedere beh è uno dei miei sono caccato sotto abbiamo abbiamo beccato una partita con i killer eh che lo dico non sono così bravi di solito beh sì sto notando che sono abbastanza ma che ti salvo va che ti ho salvato va va no sei morto nooo mi sono riuscito a sgattolare le spalle del tizio sì sì che cazzo è questo arrivo arrivo c'è un tizio mi ha schiacciato tipo super mario ok siamo eccolo qua anche che c'è lì davanti ottimo non l'ho visto mi avrà anche sfottuto probabilmente sì sì quelle classiche sequenze dove arrivano tutti uno ad uno di quei cuori no sì 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 esatto non mi ha capito mai però non ho mai sfottuto e molti frego ma sempre qua cioè questo scherzo sono innamorati della casetta diloccata qua oh sono gli ho lanciato una bomba gli ho sparato in spaccia 600 volte e non è morto niente sono tutti lì basta bisogna dobbiamo prendere il possesso della casettina diloccata qua al centro eh sì perché ci sono in volta che ci entro dentro si sono messi lì a camperare sì 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 che io non vorrei camperare però e me li trovo sempre qua e mi sconfile ecco lì due due porca miseria non li aspetto io per un attimo facevo il dazzo ma scamare ma scamare sì quei due lì si mettono lì quella torretta lì in mezzo sì sempre lì proviamo a tirarli intorno ecco sono ancora uno sì adesso sto facendo un altro giro vediamo ho preso da 600 chilometri aspetta qualcuno mi è andato ti ho dato ti ho aiutato con un assist sì 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 oh doppia kill oh stiamo vincendo eh figa stiamo vincendo non penso grazie a noi però va bene così no vabbè dai abbiamo fatto il nostro se vinciamo la prima è una buona partenza ma nooo mi è arrivata una bomba ma qua sta lanciata una bomba a caso e passavo di lì per sbaglio oh sempre più cioè non riesco a adesso mi chiudono sempre in questa strana ogni volta che entro la fila adesso no niente 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 a ti vedo tu sei in posizione niente in posizione io mi sto sparando dai vedremo se riesci a farla tu o riesco a farla io oppure niente Uh, mi chiede un vinto di un punto Ce la portiamo a casa e non ci lamentiamo Mamma mia, peggio di un calcio di rigore al 92esimo Sì, perfetto, perché poi quando mi capita il contrario mi fa incazzare da morire Ma bene così E vai, il team H di Blog vince questa prima sfida Ne faremo una seconda, ovviamente Se la vinciamo chiuderemo qui la partita Altrimenti faremo una bella Naturalmente nel caso di perdita io sono pronto ad indossare il mio cappellino fail Che in questo caso non indosserò perché abbiamo vinto E direi che per oggi è tutto Ne faremo altre Affronteremo sfide anche ad altri titoli Magari fateci sapere nei commenti cosa ne pensate Cosa vi piacerebbe vedere Per questa prima sfida dell'H di Blog Team Direi che è tutto Ci vediamo ai prossimi appuntamenti Ciao ciao ragazzi